Coach Capelleto, allora una partita interessante, avevi detto prima, alla vigilia. Come la commenti? Diciamo che intanto ringraziamo la federazione, queste sono finali che per i ragazzi servono, sono momenti agonisticamente molto importanti e quindi secondo me sono partite che possono servire per la crescita dei ragazzi, quindi ringraziamo la federazione che ha organizzato a puntino questa finale per poter farli crescere. Comunque è una partita interessante, noi sapevamo la forza del Cosmos, eravamo preparati a quello che fanno, abbiamo fatto benino e se gli allenatori non sono mai contenti, quindi qualcosa da dire avrei, però me lo tengo per i miei ragazzi. Adesso inizia subito la fase regionale, già da mercoledì, cosa ti aspetti? Mi aspetto squadre guerrite che non hanno niente da perdere contro noi, di solito quando ci incontrano le squadre, sono due reazioni, hanno paura di giocare e li andiamo in faccia oppure danno loro stessi tutto quello che possono dare ed è un po' complicato, dobbiamo prepararci a fare la guerra, siamo pronti, ci siamo allenati e in questo full immersion una settimana ci si gioca la fase nazionale, è una cosa interessante comunque per la crescita dei ragazzi soprattutto.